Per comprendere e governare le dinamiche di un mondo sempre più complesso e globalizzato sono necessarie oggi competenze e conoscenze che vanno al di là delle tradizionali forme di sapere. Per questo il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza offre una preparazione che abbraccia scienze storiche, giuridiche, sociopolitiche, economiche e linguistiche stimolando un approccio comparativo al contesto internazionale. Il confronto con i mutevoli scenari che caratterizzano la nostra epoca diviene così l'occasione per un percorso di approfondimento interdisciplinare centrato sulle sfide dell'innovazione politica, istituzionale e amministrativa. Apprendimento e perfezionamento delle lingue, esperienze internazionali e stage rappresentano ulteriori momenti di crescita personale per poter arrivare adeguatamente preparati all'incontro con un mondo del lavoro in costante cambiamento. Alle strutture della storica sede della città universitaria si aggiungono oggi nuovi spazi dotati di supporti tecnologici e multimediali funzionali al più efficace svolgimento del percorso formativo. I corsi triennale magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche mirano a formare esperti e professionisti capaci di adattarsi con grande flessibilità a contesti professionali diversi, in organismi di livello internazionale, nazionale e locale, nel settore pubblico e in quello privato. Le competenze maturate potranno essere spese in organizzazioni non governative, sindacali e dipartito, nel terzo settore, in enti di ricerca, negli organismi dediti alla cooperazione sociale e culturale. L'orizzonte professionale di riferimento comprende altresì esperienze nell'ambito di organismi europei e internazionali, nel settore degli istituti di credito, in imprese a carattere nazionale o multinazionale. Una formazione interdisciplinare di alto livello, inoltre, rappresenta un valore aggiunto nella carriera giornalistica, in quella diplomatica e in quella politica. Grazie